Live Reaction di Monza Elite, sempre in forza in internazioni, tra poco inizierà la partita. Bene, prima di dare continuità a questa striscia positiva di tre vittori consecutive come Bologna, Atalanta, bene, bene, ma devo fare la quarta di fila, da poco si inizia. A parte la sfida, forza in internazioni, Atalanta, colpo di testa alto qui, così non va in su, va, salta su screen, Atalanta per Marella, ecco Bastoni che avanza lui, prova in internazioni, nel cross lui, dentro Darmian! Grandissimo assist di Bastoni! E poi, quello che volevo che non giocasse, la mette dentro. Dopo un inizio difficile, siamo avanti noi, minuto 9.30, 1-0 Darmian, 1-0 Darmian, grande anticipo su Carlos Augusto, e via, e via! Rivediamo l'azione, Gran cross, Carlos Augusto a far fare, e arriva Darmian, taglia benissimo, e andiamo! Non ci credo, non ci credo, non ci credo, segnateci via, non manca te, un minuto dopo, un minuto dopo, tutto solo, ma pazzo! Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, però pazzo! Il corner è regalato all'olza! Porta è una parabola, attenzione, forse c'è un tocco di mano, forse c'è un tocco di mano, attenzione! ancora dentro e Betania non la mette dentro attenzione e c'è il gol di Lautaro Lautaro va a scippare il pallone a Pablo Marisi non l'ho visto male e la insacca a lui e la insacca a lui il padrone Gagnani ha termito giro palla verso di Gregorio Pablo Marisi addormenta arriva grande Lautaro 2 a 1 2 a 1 calmi calmi ora voglio calma il Toro di Biaglia Blanca Biaglia Blanca come si chiama è andato lui diretta a rubare il pallone col pressing 2 a 1 interno va subito verso Barella ancora Miki Miki mettila bene e lui e Bastoni non riesce a trovare la porta calma tranquillità bellicose ecco partito Danimota Danimota dentro Nanna meno male ha resistito Darmian ha resistito Skriniar Danimota e poi messo dentro Monza risponde Monza è vivo una bella partita c'è una petagna l'ultima occasione Carlos Augusto alto fine primo tempo approccio da brividi poi il gol di Darmian poi subito il pari Gigi e ragazzi bisogna essere tranquilli e la tranquillità è arrivata con il gol di Lautaro Martinez poi era bellissima da una parte e dall'altra proprie occasioni per noi giusto secondo me il 2 a 1 per ora ma c'è ancora un secondo tempo ci vediamo dopo si parte con il secondo tempo di Monza per il 2 a 1 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 per il 2 a 1 per il 2 a 1 per il 2 a 1 il 2 a 1 il 2 a 1 il 2 a 1 il 3 a 1 bello per l'autaro 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 non tira arriva Darmian dentro un cieco non troppo un pallone un occhiale dentro l'autaro 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 la Filippo Ranocchio serve ben ben altro per impensierire il portiere camerunese la Filippo Ranocchio la Filippo Ranocchio la Filippo Ranocchio la Filippo Ranocchio dentro un'anna un'anna e Lukaku mamma mia sul colpo di testa di Pablo Marino non so Aslani Aslani sul pallone parte Cristiano Aslani 3 3 a 1 no 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 non ecco bastoni basso neotaro parlo non è possibile guarda bastoni basso su 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 ciò che io metto dentro che è possibile la guarda sarà l'ultima 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 voglio tuttala dentro scrigno dai tutt'accio tutt'accio no 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 dai dai a lot process